Inizia oggi in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dibattito sulla richiesta palestinese di pieno riconoscimento come Stato indipendente. Una strada in salita per l'aspirante 194esimo Stato ONU che ha bisogno del sostegno di almeno 9 dei 15 membri del Consiglio. Da New York il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito la posizione espressa durante l'intervento al Palazzo di Veto. Perché stiamo parlando del parlare? Perché stiamo negoziando sui negoziati? E' molto semplice, se si vuole la pace occorre mettere da parte ogni precondizione. L'esame della domanda di adesione alle Nazioni Unite presentata dal leader palestinese Mahmoud Abbas in occasione della 66esima Assemblea Generale potrebbe durare settimane. E per il voto finale comunque resta all'ombra del Veto statunitense.